Dopo un anno di lavoro è arrivato a conclusione il progetto Limbo, realizzato dall'associazione Amani Niai, con il contributo del CESVOT e del Centro di Cooperazione Missionaria di Lucca, che ha visto coinvolti i ragazzi del liceo scientifico Vallisneri, in uno studio approfondito sui migranti e sulle migrazioni. Un anno intenso in cui si sono susseguiti incontri con esperti internazionali, ma che ha visto anche i ragazzi protagonisti di esperienze sul campo, culminate con il viaggio di 5 giorni che si è concluso a Lampedusa per toccare con mano la realtà migratoria. In questo viaggio abbiamo proprio toccato con mano quella che è la realtà di terre di sbarchi e quindi siamo stati là. Alla fine di questo viaggio è stato realizzato un video che farà da vettore, speriamo, nelle altre scuole, nelle classi, laddove ci chiameranno, a portare una testimonianza di quello che questi ragazzi della licea scientifica hanno vissuto direttamente e che sono disponibili a riportare ai loro coetanei. Ad accompagnare gli studenti in questo percorso, Francesco Malavolta, fotografo calabrese da oltre 20 anni, impegnato a raccontare le migrazioni e fotografo di riferimento dell'Agenzia Europea Frontex. I ragazzi spessissimo si affidano semplicemente ai social senza approfondire, quindi si cerca di dare sicuramente anche uno strumento di approfondimento, non solo con la conoscenza di chi vive in quei luoghi, ma spiegando esattamente come e non fare una ricerca e come basare i loro dati. Accanto a Malavolta, il fotoreporter lucchese Federico Scoppa, anche lui impegnato sulle tematiche relative a migranti e per diversi mesi imbarcato sulla nave della ONG Aquarius. C'è stata una speculazione fortissima sull'operata di queste ONG, adesso non c'è più niente, il Mediterraneo diventa un buco nero, nessun giornalista è più in grado di testimoniare questo e la gente muore e continua a morire e continuerà a farlo, perché comunque non stanno facendo viaggio di piacere, stanno scappando da una morte certa e affrontano una morte probabile. Uno su cinque adesso muore attraversando il Mediterraneo.